Matteo buonasera, complimenti per la RET. Insomma, è stata una partita equilibrata, che ha offerto pochissimi spunti. Poi è arrivato al 47esimo il tuo di spunto, raccontaci un po' la dinamica. No, vabbè, è stata, come dici te, una partita molto chiusa, perché comunque sono due partite a giocare, questa e il ritorno, comunque e siamo in semifinale, quindi nessuno vuole rischiare. Noi ci abbiamo provato fin da subito a provare a vincerla, perché comunque qui in casa era giusto provare a vincerla. Ci siamo riusciti alla fine, sono molto contento ovviamente di questo gol, ma soprattutto della squadra che ha portato a casa questa vittoria qui, che ci dà questo piccolo vantaggio per la gara di ritorno. Non ci dobbiamo alleggerire, però sappiamo che siamo consapevoli della nostra forza, sarà dura, però abbiamo questo piccolo vantaggio da sfruttare. Grazie. Buonasera Matteo, complimenti per la rete. Questa sera l'ennesima dimostrazione da parte vostra, penso, della capacità di adattarvi e di fare di necessità virtù un nuovo modulo con la difesa 3, il centrocampo a 5, insomma avete comunque risposto un'altra volta come un grande gruppo. Sì, siamo dei ragazzi che si mettono a disposizione tutti, il mister ha provato questa situazione nuova, questo nostro sistema di gioco diverso, l'abbiamo fatto molto bene, l'abbiamo già provato altre volte in allenamento, in altre situazioni, non l'abbiamo potuto mettere in campo poi il sabato, però penso che questo nostro modo di giocare non se l'aspettavano loro e li ha messi abbastanza in difficoltà e poi comunque noi diamo sempre il massimo, ci crediamo fino alla fine e abbiamo portato a casa come con la regina la partita all'ultimo e quindi dobbiamo fare i soli complimenti a noi perché non molliamo mai e quindi questa ci deve dare la forza per affrontare il ritorno ed eventualmente anche la finale. Ciao Matteo e complimenti per il gol, volevo chiederti se piano piano sta salendo la pressione anche nel vostro spogliatoio. Ah beh, quello sicuramente, ma già adesso essere in semifinale, semifinale playoff per giocarti a Serie A, comunque un po' di pressione rispetto al campionato ti sale, noi dobbiamo concentrarci sul campo, dobbiamo concentrarci pensando che non è la semifinale playoff, è difficile da non pensarci, però quella mentalità che dobbiamo dare in campo è questa, perché se no la pressione un po' ti toglie in campo, poi ovviamente il pubblico e tutto il contesto comunque te la creano e poi non è che dimentichi che stai giocando la semifinale playoff, però dobbiamo cercare di pensare che sia una partita come tutte le altre e così l'abbiamo fatto oggi e penseremo alla stessa cosa anche al ritorno. Grazie.